Ciao a tutti! Vi ricordate il vecchio armadio che ho cominciato a ristrutturare dipingendo due ante con la vernice lavagna? Bene, eccolo di nuovo qua. Ho deciso di rivestire le altre tre ante con questa pellicola effetto legno, color grigio, che ho comprato online. Ne ho presi tre rotoli, uno per ogni anta. Così non dovrò aggiungere pezzi a metà o fare tagli che potrebbero influire negativamente sull'estetica. In questo video vi farò vedere nel dettaglio come si presenta la pellicola e vi farò vedere come l'ho applicata alle ante dell'armadio. Non avendolo mai fatto ho dovuto seguire le istruzioni che ci sono sul retro. Sono scritte in diverse lingue e sempre sul retro sono presenti le quadrettature e i centimetri sui lati per facilitarne il taglio. Vi leggo le istruzioni nel caso nel video fosse difficile riuscire a vederle chiaramente. Altrimenti, se si vedono bene, potete bloccare il video e leggerle con calma. L'adesivo venilia si posa su tutte le superfici levigate, pulite e asciutte. Se volete ricoprire una superficie ruvida, occorre levigarla prima della posa. Per le superfici in gesso, cemento, legno agglomerato, pietra friabile, utilizzate una vernice o un intonaco prima di posarlo. Misurate la superficie da ricoprire. Tagliate l'adesivo nelle dimensioni desiderate prevedendo un margine di qualche centimetro. Se la superficie da ricoprire è importante, togliete la carta protettrice su alcuni centimetri e incollate la parte così liberata. Applicate togliendo a poco poco il resto della carta protettrice. Lisciate con il palmo della mano partendo dal centro per togliere le bolle d'aria. Se rimangono delle bolle d'aria, foratele con uno spillo e lisciatele. Se avete posato male l'adesivo, toglietelo con precauzione e incollatelo nuovamente. Se volete posare diverse strisce, sovrapponetele per circa mezzo centimetro. Dalle istruzioni sembra facile, ora però bisogna provare. Quindi mettiamoci al lavoro. Inizio, come scritto sulle istruzioni, a pulire la superficie. Una volta asciutta, prendo il rotolo. Lo lascio così senza tagliarlo, perché il peso del rotolo stesso mi aiuterà a tenerlo più fermo quando dovrò incollarlo dall'alto. Siccome la superficie è lunga e stretta e lo dovrò applicare in posizione verticale, mi sembra più comodo così. Parto dall'alto. Posiziono la pellicola centralmente, lasciando un po' di bordo a destra e a sinistra. Ho liberato l'adesivo dalla carta protettrice solo di un centimetro e ho cominciato ad incollare quella parte. La carta protettrice andrò a rimuoverla piano piano e solo dopo aver incollato la parte di adesivo che ho liberato. Procedo così fino ad arrivare al fondo, ma siccome è molto più facile farlo che descriverlo, vi lascio vedere come ho fatto. Sulle istruzioni c'è scritto di lisciare la pellicola con le mani una volta applicata. Io vi consiglierei di usare o un righello o comunque una spatola o qualcosa di simile. Io ho utilizzato il tarocco tagliapasta da cucina e mi sono trovata benissimo. È di plastica rigida ma non graffia la pellicola. Grazie. 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 Ho tagliato l'eccesso della pellicola solo quando sono arrivata al fondo. Poi mi sono procurata un taglierino ben affilato per rifinire tutti i bordi. Questo è ciò che è avanzato da un rotolo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Con un pennellino faccio dei ritocchi ed è tutto a posto. Pur facendo attenzione a lisciare bene la superficie con la spatola qualche bollicina è rimasta ma come c'è scritto nelle istruzioni ho risolto bucando con uno spillo e lisciando nuovamente. Come vedete, dopo questa operazione il risultato è perfetto. Il lavoro è quasi finito, mi rimane l'ultima anta da rivestire. Alla fine non è stato poi così difficile applicare questa pellicola. La consiglierei. Ecco il risultato finale. Beh, da come era ridotto prima mi ritengo soddisfatta. Per oggi è tutto, come al solito vi ricordo che se avete qualche domanda potete scriverla nei commenti, sarò felice di aiutarvi. Vi ricordo anche che se avete piacere di sapere dove ho acquistato le pellicole vi ho lasciato il link in descrizione. E in descrizione troverete anche il link che vi porterà alla prima parte della ristrutturazione dell'armadio. Se vi fa piacere vederlo, quello dove ho applicato la vernice lavagna. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo acquisto. Ciao ciao! Grazie.